Le trarote sono entrati dei ladri, hanno distrutto tutto dentro, hanno accumulato carta e sedie messi in vari punti del locale, hanno tentato di dare fuoco, però qualcosa non ha funzionato, per fortuna noi siamo entrati stamattina e abbiamo visto questo disastro. Io non so a che cosa è dovuto, perché è la seconda volta che noi interveniamo. Penso che siano dei vandali, che sotto non ci sia nessun altro scopo, né politico, a cosa serve? Dare fuoco a una struttura pubblica che usano tutti per riunioni, convegni, mostre, quindi mi sembra che sia proprio stato un atto vandalico. Grazie.